Partiti oggi i lavori per il rifacimento del manto stradale tra Piazza Verdi e Quattro Canti. Già dalla mattina una lunga fila di mezzi speciali in sosta di fronte al Teatro Massimo e alle 11.30 circa il Via ai Lavori. 5.000 metri quadrati circa da asfaltare entro metà novembre. Una ordinanza dirigenziale dell'Ufficio al Traffico prevederà la chiusura temporanea della circolazione pedonale e veicolare della semicarreggiata interessata ai lavori. 10 operai con il compito di asfaltare 500 metri di strada al giorno.